Ben ritrovati gentili telespettatori e il telegiornale del Veneto orientale in apertura subito. Andiamo ad Oderzo, la sindaca Scardeglato ribadisce come ci sia un'emergenza per quanto riguarda i profughi. Chiede infatti che i lagunari rimangano in città per prestare il proprio servizio di vigilanza, ma allo stesso modo chiede ancora anche al governo centrale maggiori risorse. Ma sentiamo proprio nell'apertura il servizio del nostro telegiornale. Si è concretizzato il primo caso di migrante richiedente asilo che ha ottenuto lo status di rifugiato, ragion per cui è stato espulso dal centro della caserma Zanusso perché non ha più titolo per esserci e si è presentato ai servizi sociali del municipio per chiedere casa e lavoro. A questo episodio, riferisce la sindaca Scardeglato, si aggiungono altri migranti che hanno perso il diritto di chiedere asilo e dunque, espulsi dal centro di accoglienza, dormono nei giardini pubblici. Una situazione che rischia di diventare presto fuori controllo anche perché i vigili urbani sono già sotto organico e non possono organizzare i turni per controllare il territorio 24 ore al giorno, oltre a non essere addestrati per gestire l'emergenza derivante dalla presenza di persone irregolari. Perciò è partita una lettera alla firma del sindaco Maria Scardeglato, rivolta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Interni, oltre che alla Prefettura di Treviso e ai Carabinieri di Oderzo, contenente alcune richieste urgenti relative ai richiedenti asilo collocati dalla Prefettura in una porzione dell'ex caserma Zanusso. I servizi sociali del Comune, scrive la Scardeglato, hanno già diverse richieste di casa e lavoro da parte di Opitergini in difficoltà e nonostante l'incomiabile impegno non riescono a soddisfarle tutte perché le risorse del Comune non sono sufficienti e gli assistenti sociali sono impegnate anche in molte altre situazioni di difficoltà e marginalità sociale. Vista la situazione, aggravata dal fatto che sembra sia previsto l'arrivo di ulteriori 220 migranti al centro Zanusso, il sindaco ha ribadito che bisogna ridurre drasticamente il numero di richiedenti asilo a Oderzo, mantenere il servizio dei lagunari per il controllo del territorio fino alla chiusura del centro di accoglienza, di garantire l'immediato e continuativo intervento nelle forze dell'ordine per l'allontanamento di tutti gli ingregolari e il loro inserimento in centri di espulsione. Inoltre, per quanto riguarda l'assistenza dei rifugiati, posso dare la disponibilità del Comune a collaborare, ma non avendo mezzi per farlo, chiedo allo Stato adeguate risorse. Ora ci trasferiamo a Fossalta di Piave, una pista ciclopedonale per arrivare alla stazione di Fossalta, ad annunciare lo stesso primo cittadino, Massimo Sensini, in arrivo a 900.000 euro, grazie al bando preferie della città metropolitana per realizzare una pista ciclopedonale di circa un chilometro che consentirà di arrivare in sicurezza alla stazione. Il tratto da Via Roma fino all'incrocio con Via Taskin, collegandosi con la pista ciclabile di Lossonne, che porta a Meulo, un'opera molto attesa dai Fossaltini, ha spiegato lo stesso Sensini. Il progetto prevede lo spostamento della strada rispetto all'attuale percorso all'altezza dell'osteria Baubau per consentire il transito in modo agevole con un muretto di contenimento. In Via Fossetta sarà ricavato un percorso protetto. L'inizio dei lavori è previsto per gennaio, termineranno con tutta probabilità appena all'inizio dell'estate. Da parte della rete ferroviaria italiana in arrivo altri 350.000 euro per alcuni miglioramenti delle aree esterne alla stazione. E parliamo ancora di soldi, di quelli che si stanno definendo proprio in questi giorni. A Jesolo per la tassa di soggiorno c'è chi vorrebbe l'aumento della tassa di soggiorno, chi invece di parere contrario, a quanto pare però in qualche modo sarà inevitabilmente aumentata. Ma sentiamo il servizio. Tassa di soggiorno, il Comune studia la possibilità di aumentare le tariffe. È l'ipotesi al vaglio dell'amministrazione comunale che ufficialmente sta prendendo in considerazione l'ipotesi di aumentare l'importo per la prossima stagione. Si parla di 20 o 30 centesimi in più al giorno sulle tariffe attualmente in vigore e che per quest'anno verranno pagate fino al prossimo 30 settembre, garantendo un gettito di 2.700.000 euro. Le tariffe variano da un minimo di 50 centesimi a un massimo di 2 euro a seconda del tipo di struttura ricettiva. L'argomento è stato affrontato anche nell'Assemblea Generale dell'Associazione Iasolana degli Albergatori mentre parte dell'aumento potrebbe essere investita in nuove opere per la sicurezza. Ma, anche se siamo ancora in attesa di una decisione definitiva, la questione è già approdata in Consiglio Comunale dove dai banchi di opposizione i consiglieri comunali della Lega Norte e della lista Scelgo-Iesolo sono pronti a lanciare un nuovo attacco contro la maggioranza. Se davvero si vuole invitare le aziende ad allungare la stagione, dice Alberto Carli, assieme a Fabio Visentin, Venerino Santini e Ilenia Buscato, il sindaco farebbe bene a dimostrare nei fatti la volontà di perseguire questo obiettivo introducendo, prima di tutto, una fiscalità di vantaggio come hanno fatto già altri comuni per premiare ed incentivare le aziende che tengono aperto al di fuori del periodo classico iniziando ad abbassare l'IMU per imprese e organizzando manifestazioni anche nei mesi minori. Per la prova dei fatti, invece, ci troviamo con la finale di Miss Italia realizzata la prima settimana di settembre e con il ventilato aumento della tassa di soggiorno per la prossima stagione estiva che ci auguriamo non sia stato già avallato dai vertici dell'AIA. Immediata la risposta del sindaco, Valerio Zoggia, nulla è stato deciso e parlare di tariffe o altro è decisamente prematuro. Stiamo valutando la possibilità di avviare un percorso con le associazioni di categoria per decidere se aumentare la tassa di soggiorno, ma in ogni caso il comune prenderà le proprie decisioni, ha concluso il sindaco. Buone notizie per l'ORAS, l'ospedale di Motta di Nivenza, perché il prossimo 2 ottobre ci è un nuovo assunto all'ospedale riabilitativo di alta specializzazione. Arriva il cardiologo Francesco Antonini Canterin, sarà il dirigente medico della unità operativa di cardiologia riabilitativa. Proviene dall'analogo servizio dell'ospedale di Sacile. Antonini Canterin, 55 anni, si è laureato in medicina e chirurgia a Trieste e poi ha conseguito la specialità in cardiologia a Padova. Ha svolto attività di cardiologo all'ospedale di Pordenone, referente anche del laboratorio di ecocardiografia. È stato responsabile del servizio di patologia cardiovascolare ed aterosclerosi dal 2011. Era responsabile del servizio di cardiologia riabilitativa dell'ospedale di Sacile. Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche, ha una lunga esperienza come relatore e moderatore di convegni e congressi. Come segnalo in una nota alla stessa Oras di Motta, il nuovo arrivo è stato recentemente deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente Gianni D'Ascenzo, come segnalo all'ospedale di Motta. E ora andiamo a Porto Gruaro, arriva finalmente il sì. Quello che tanti speravano da parte dell'amministrazione comunale per la fusione con il Friuli di LTA Acque, anche se la stessa amministrazione pone alcuni paletti. Sentiamo. Anche Porto Gruaro dirà sì con delle puntualizzazioni alla fusione tra LTA e Ambiente Servizi. Dopo il rinvio della delibera deciso nell'ultimo Consiglio Comunale e le relative polemiche, la Commissione Consigliare, che si è svolta l'altra sera, sembra aver dissolto i dubbi della maggioranza rispetto alla fusione per incorporazione delle due società nel servizio idrico. La delibera verrà portata in approvazione il prossimo 26 settembre, ma verranno inseriti alcuni emendamenti. Si parla di 5 o 6 modifiche che riguarderebbero in particolare la sede che dovrà restare a Porto Gruaro e il numero di rappresentanti di LTA all'interno dell'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti del Friuli Venezia Giulia. Il testo definitivo verrà presentato alla riunione dei capigruppo. Credo che il Comune di Porto Gruaro, ha commentato il sindaco senatore, abbia fatto fino in fondo il proprio dovere di tutela dei cittadini. Abbiamo rinviato il punto per dipanare tutti i dubbi sull'operazione e per votare consapevolmente su un tema che avrà ricadute importantissime. Il sindaco ha annunciato che l'accordo interregionale è prossimo all'approvazione e che sono stati garantiti gli investimenti sui territori veneti. Se la maggioranza voterà sia la fusione come il centro-sinistra, resta da capire che posizione avrà il consigliere dei 5 Stelle Claudio Fagotto. In Commissione ha detto abbiamo posto molte domande ed alcune abbiamo avuto risposta soddisfacente, ad altre invece no. Ci pare strano che nessuno degli altri consiglieri abbia voluto dichiarimenti. Sano già tutto? Dobbiamo ancora decidere se votare sì o no alla fusione. Lo faremo solo dopo aver letto l'accordo interregionale che dovrebbe essere approvato a breve. La Commissione chiesta dai 5 Stelle, ha commentato la consigliera del centro-sinistra, Vittoria Pizzolitto, è stata un'inutile proroga. I termini della fusione erano chiari fin dalle ultime due riunioni. Fa specie poi che la difesa dell'appartenenza al Veneto del gestore riguardi LTA e il servizio dell'acqua che da sempre è interregionale. La Commissione, ha aggiunto il collega Roberto Zanin, è stata utile solo a confermare che molto della questione non riguarda l'acqua bene comune, bensì il potere sull'acqua. Il risultato di avere due rappresentanti di LTA in Ausir invece di uno, pare abbia convinto la maggioranza. Ora aspettiamo di conoscere quali emendamenti verranno presentati in delibera. Una bellissima iniziativa invece che arriva dal mare, poi si estende anche nell'entroterra. Da Bibione la scoperta infatti dell'entroterra rigorosamente in bicicletta gustando i prodotti locali. Si chiama 5 Acque Gourmet Gravel Ride. È la giornata che proprio domenica sarà dedicata alle due ruote, alla scoperta di un territorio unico tra mare, fiumi e laguna, attorno a Bibione, Alvisopoli e Porto Gruaro. Due percorsi, uno di 60 all'altro di 100 km, per dare incontro a tutte le esigenze, ma soprattutto una proposta diversa. Si pedalerà infatti sulle più belle strade secondarie, sugli argini, sui sentieri e sulle strade bianche attorno a Bibione e verso la pianura, ma soprattutto ci si prenderà il tempo per gustare la proposta gastronomica di questa prima gourmet gravel ride italiana. Un evento dove la bicicletta incontra il paesaggio e i sapori. Cinque, allora le soste, per chi farà il percorso più lungo. A base di pesce, mozzarella di bufara rigorosamente locale, altri prodotti di alta qualità tra terra e mare, per finire con un bicchiere di vino di fronte al mare nel bellissimo faro di Bibione. La partecipazione alla prima edizione sarà a numero chiuso, sono aperte le iscrizioni nell'indirizzo bummer-europe.it. I percorsi facili sono adatti ad ogni tipo di bici, da quella da corsa, per la quale si consigliano comunque coperture robuste, alla mountain bike, fino alla bici da trekking e alla gravel. La Cinque Acque fa parte di una fine settimana, dove Bibione sarà protagonista davvero però la bicicletta, perché sabato, in questo sabato, oltre 600 biker si sfideranno, nella sei ore, il mountain bike del Bibione Bike Trophy, un originale gran fondo su circuito tra le pinete e la spiaggia di Bibione. Poi ci saranno incontri, musica, mostre fotografiche e molto altro. Ora parliamo di Opitergino-Mottense. Le Proloco fanno squadra per quanto riguarda la promozione. Il nostro Cultarelli è andato a sentire il presidente del Proloco dell'Opitergino. Il servizio. Compagnia di Bruno Silvestrin, lei è vicepresidente delle Proloco Trevigiae, nonché vicepresidente del Consorzio Opitergino, e nonché presidente della Proloco di Porto Bufolai. Ecco, lei evidentemente conosce molto bene le Proloco, conosce bene tutte le manifestazioni che fanno le Proloco. Una delle cose che si nota, specialmente noi così, con il nostro lavoro, è che fondamentalmente le Proloco fanno centinaia di manifestazioni estremamente importanti, però finiscono di essere manifestazioni a fine a se stessa, perché non hanno un veicolo di promozione oltre un certo limite. Sì, e questo è il livello, è un problema che non riguarda solo le Proloco, riguarda le aziende, riguarda tutti i Veneti. Noi siamo gente che lavora tanto e si preoccupa di far bene, ma è che si preoccupano della comunicazione, perché questa è una predica che faccio sempre anche alle mie Proloco. L'importante è sì fare le cose bene, ma bisogna che anche gli altri le sappiano. Non è sufficiente che una cosa sia fatta bene, perché poi la gente anche ci venga. Purtroppo difettiamo, e su questo, almeno parlo in questo caso come UMPLiD, che è l'associazione che era il gruppo alle Proloco, nel Treviso, ma anche l'UMPLi di Veneto, abbiamo fatto centinaia di corsi di formazione per abituare, neanche con il Proloco dello Pitergino Montense, abbiamo fatto delle serate con dei esperti in comunicazione, proprio per abituare le persone, perché molte volte poi difettiamo non solo nella comunicazione, ma anche il tipo di comunicazione che facciamo molte volte non è efficace, nel senso che magari usiamo strumenti che una volta forse servivano e oggi non servono. Parliamo di un evento legato alla cultura, uno dei tanti che si tiene al Beja Flor di Portogluaro, lo spazio infatti arte, arriva alla mostra Zigurat, l'appuntamento è per questo sabato, con l'inaugurazione alle 18.30. Gli artisti sono Famire Barlo e Davide Raffin, e Zigurat è il nome di questa rassegna, un omaggio alle origini persiane di Feynman e alla professione di architetto di Davide. Presentazione di Serenella Minto Aperto, da lunedì a sabato, dunque Serenella Minto, aperto l'evento da lunedì a sabato, dalle 9.30, dalle 15 alle 18.30, presso Beja Flor, siamo in Valle Udine a Portogluaro. E ora invece andiamo con Vinicio Scortegagna, perché ci propone un altro scatto dal territorio, cioè Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna per Fotoreporter, grazie a voi per aver scelto il telegiornale del Veneto orientale. Ci ritroveremo con le altre news, rimanete con noi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. A risentirci.